Venire incontro al cittadino ai suoi spostamenti, questa è la filosofia del PUMS, piano urbano di mobilità sostenibile, illustrato ieri in Consiglio Comunale. A occuparsi della sua redazione la società sintagma secondo un principio definito. La nuova pianificazione europea, ma anche italiana, non mette più al centro dell'attenzione l'automobile, ma mette al centro dell'attenzione l'uomo. Tra gli interventi studiati, quelli sulla mobilità dolce a favore dei pedoni, il trasporto pubblico e in particolare le infrastrutture viarie che rallentino la morsa del traffico. Soprattutto dei cittadini che vengono fuori, perché lo vedevamo nell'esposizione in Consiglio Comunale, quasi 25 automobili su 100 sono di cittadini che vengono dall'esterno della città di Sassari. Confermata l'ipotesi di eliminazione della tratta di Sirio dall'ospedale a Via d'Italia. Sarà solo quello, perché chiaramente tutta la parte dall'ospedale fino a Santa Maria di Pisa, per ora e poi oltre, sarà comunque fruibile. Da oggi il PUNS è già disponibile sul sito per lo studio e le osservazioni. Dopodiché verrà portato in Consiglio, verrà approvata la versione preliminare e da lì decorreranno i 30 giorni per poter fare le osservazioni ufficiali. Chiaramente verranno tenute in conto tutte le osservazioni che perverranno anche prima. Grazie. 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 Grazie.